salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi voglio proporvi il video tutorial delle tutorial gioche bed che in questi giorni sto postando sul su qualche gruppo social ecco perché mi sono resa conto che quel video non è molto chiaro anche perché si trattava di un video collaborazione all'inizio era un po troppo chiacchierato quindi voglio andare al succo e tra l'altro vi mostro anche una versione semplificata del modulino originale perché nei modelli che ho postato in questi giorni nei social salto l'ultimo passaggio e quindi va bene ho detto faccio un video smart così per mostrare i passaggi essenziali per ottenere il modulino e ho già preparato sul sul tappetino i colori che ho scelto da questo da questo mucchettino di iconi svaroschi tra l'altro su icono svaroschi tra l'altro sono 4 per 4 mm non non l'avevo specificato occorrono due rivoli da 14 mm l'incastonatura con queste gem 2 va bene anche con i rivoli da 12 e chiaramente si stringe un po meglio dietro poi occorreranno per ogni orecchino giusto 8 gem 2 e serviranno ancora delle roccaie miyuki 15 0 e delle roccaie miyuki 11 0 tutto qui a go filo e possiamo cominciare subito con gli step per il modulino gioche bet allora come prima cosa infiliamo sul lago questa sequenza che sono praticamente una coppia di gem duo e un bicono per quattro volte poiché io ho abbinato questa colorazione di svaroschi che stavano finendo ho alternato un violetto scuro con un violetto chiaro cosa facciamo chiudo a cerchio velocemente quindi ripasso all'interno di tutte le gem duo e bicono e faccio un nodino semplicemente così vi evito questo questa schermata e ci troviamo col medino già pronto una volta che ho realizzato il nodino mi sposto col lago all'interno della coppia delle gem duo in questo modo fisso lago all'interno quindi facendo un po di pressione e taglio l'eccesso con una tronchesina una volta che mi trovo al centro di questa coppia vado ad inserire sul lago una 15 0 15 0 sul lago quindi entro all'interno del foro adiacente dell'altra gem duo e vado a posizionare quindi la mia perlina qui proprio in mezzo questo passaggio creerà tensione in queste perline quindi è normale che si dobbiamo fare la coppetta per il rivoli quindi si incurveranno parecchio non vi preoccupate è normalissimo con lago mi sposto all'interno anzi fra le due coppie di gem duo successive faccio la stessa cosa e faccio questo passaggio per tutto tutta la circonferenza delle perline ok qui faccio l'altro inserimento faccio gli altri tre e ci troviamo dopo completato il giro come potete vedere il modulino si incurvato è sicuro che smart veramente smart realizzarlo guardate mi porto con lago ad uscire da una gem duo salgo nel foro superiore e tra la coppia di gem duo che hanno la perlina al centro vado ad inserire un bicono mentre tra le gem duo che hanno in mezzo il bicono del primo giro vado ad inserire due roccaglie 11 0 e faccio questo questo inserimento per tutto il giro quindi bicono roccaglie bicono roccaglie bicono roccaglie ripasso e poi possiamo inserire i rivoli chiudere l'incastonatura ecco dimenticavo una cosa prima di inserire i rivoli dobbiamo fare un ulteriore giro aggiungendo delle 15 zero accanto all'ultimo bicono inserito quindi faccio un altro giro di ripasso questo chiaramente mi serve per rinforzare il lavoro e vado ad inserire semplicemente accanto al bicono una perlina 15 0 occhio al bicono perché è uno di quegli elementi che a me sta tanto tanto antipatico perché è molto tagliente e taglia il filo i modulini se non stiamo attenti quindi inserisco l'altra perlina e proseguo per tutto il giro attraverso le perlina ogni volta che mi troverò davanti al bicono esterno perché sono in giro esterno vado ad inserire la 15 0 in questo modo completo il giro e ci troviamo dopo finito il giro sto lavorando sempre al rovescio mi porta ad uscire con l'ago dalla coppia di perline che abbiamo inserito precedentemente e a questo punto inserisco il rivoletto capovolto rivoli da 14 abbiamo detto ma questa incastonatura va bene anche con il rivoli da 12 eventualmente adesso inseriremo sei perline sul lago ed entreremo nella coppia di perline successive quindi nella coppia di miyuki successive nel caso in utilizzaste un rivoli da 12 mm inserite sul lago 5 perline roccaie piuttosto che sei quindi sei perline sul lago sto uscendo da questa coppia e mi metto con lago nella coppia successiva e faccio così per quattro volte mi si è sfilato lago faccio questo questo passaggio per quattro volte quindi mi sposterò da ogni coppia aggiungendo queste sei rocca i e miyuki e farò un ulteriore giro di rinforzo dato che a me sta finendo anche il filo faccio questo questo step e poi cambio anche il filo ci troviamo dopo per lo step successivo prima di cambiare il filo vi faccio vedere l'effetto e adesso praticamente portandovi ad uscire dalle perline che abbiamo appena inserito senza entrare stavolta nelle due mettiamo sul lago una roccaie 11 0 e continuiamo il giro e ancora cerchiamo di stringere la lavorazione più possibile prima di proseguire con il tagliare il filo ho cambiato il filo e mi porta ad uscire come vi dicevo alla fine inserisco sul lago una roccaia 11 0 e dentro nelle altre sei perline continuo ad inserirle e stringo il lavoro più che posso anche se il rivoli è già bloccato già bello fermo vi renderete conto che questo modulino è molto stabile ho stretto la lavorazione ho fatto il nodino tagliato il filo anche se vedete un filo qui per farvi la simulazione del cappietto il retro risulta così il davanti e questo quindi il modulino è finito non dobbiamo fare altro che montare il nostro perno ma volevo appunto farvi vedere come montarlo in questo senso qui aggiungendo delle perline su questa parte praticamente con lago sono sul retro mi sposto all'interno della lavorazione fino a portarmi ad uscire da una roccaie 15 0 che precede il piccone di piccone di punta in questo caso e vado ad aggiungere sul lago semplicemente cinque roccaie miyuki 11 0 così non lo faccio vedere giusto per darvi l'idea ok quindi si creerebbe questo cappiettino qui dove io all'interno della perlina centrale posso far passare un anellino di quelli piccini ovviamente questo questo archetto va rinforzato va passato più volte quindi si dovrà girare attorno al modulino almeno due volte per garantirne appunto la resistenza e quindi e si può ovviare montando qui una roccaie è un un anellino tipo così per rendervi l'idea vediamo se ci riesco con le mani con le pinze distanti un attimino vediamo è già aperto tanto è uno di quelli che ho smontato che non devo recuperare più tipo così ok e qui potete montarci quello che volete insomma oppure se non vi piace questo effetto così potete con 4 cioè non mettendo la minuteria qui vi portate sull'ago con a uscire da questa roccaie ovviamente dopo aver fatto i due giri e qui costruite una soletta con quattro perline allora io adesso non c'entra nella lavorazione vi faccio vedere più o meno quello che vi voglio dire allora una volta che vi sarete trovate qui ok siete qui inserite sul lago quattro roccaie 15 0 che io ho messo sul lago adesso e create la soletta da voi con le perline in questo modo ovviamente così non rende e qui quindi inserirete il perno grazzosino pure magari volete rifinirvi le punte con le cinque roccaie qui sui bicono potete assolutamente farlo io preferisco utilizzare il modulino come l'ho fatto già in precedenza e quindi tolgo via tutto che tanto l'avevo solo messo per dimostrarvelo ho anche arricciato il filo che questo filo non si arriccia non so come ho fatto comunque tiro via tutto e questo è il modulino finito andiamo a montare il perno qui ne scelgo uno proprio adesso e lo facciamo insieme allora ho scelto dalla mia cassettina questo perno che è un po più squadratino è per creare un po di senso di lunghezza ho deciso di utilizzare un cristallo che ho già montato su un un ago con asola in realtà l'ho trovati già nel cassettino montati sicuramente saranno avanzati da qualche lavorazione che ho fatto allora cosa vado a fare inserisco questo elemento qui poiché questo cristallo è scuro e ho creato l'alternanza farò attenzione a posizionarlo nella parte dove il viola è chiaro quindi inserisco questo elemento qui sarebbe più logico farlo direttamente con l'aghetto con la soletta ma io ho trovato questo elemento già montato sinceramente vorrei sfruttare questa occasione ok l'ho inserito richiudo la soletta e qui invece ci andrà a montare il perno a mio avviso sta benissimo guardate l'effetto adesso mi aggiusto bene il la minuteria va bene proseguo con l'altro orecchino ecco anche l'altro orecchino ed il paio è già finito a me piacciono un sacchissimo soprattutto questi colori bene spero che il video vi sia piaciuto breve semplice spero di essere stata chiara a presto ciao